Ciao ragazzi, oggi vediamo insieme i quattro step, le quattro regole fondamentali per poter avere una pelle bella e senza investibilità. La prima regola è conoscere la pelle, la seconda regola è rispettarla, la terza regola è rinforzarla ed infine assecondarne i ritmi. La prima è sempre conoscere perché le altre tre sono legate alla prima, perciò iniziamo subito da conoscere la pelle. Ricordate che la pelle sintetizza generalmente tutto, tutto quello che le serve, adattandosi perciò a tutto quello che avviene all'esterno, i raggi solari, l'inquinamento, la polvere, i batteri, quindi è nata proprio con questo scopo. Ricordate anche che la pelle lascia costantemente evaporare acqua per termoregolarsi, quindi per termoregolare il corpo e per svolgere in modo ottimale, secondo quello che succede all'esterno, tutte le sue funzioni. Andiamo subito a capire bene cosa è importante che avvenga in superficie. Noi tutti abbiamo in superficie, senza nessuna esclusione, l'NMF che è il fattore naturale di dilatazione. Questo NMF si crea grazie allo sfaldamento della nostra cheratina. La cheratina che cos'è? Noi abbiamo costantemente questo benedetto turnover cellulare di cui sentite tutti parlare che a quanto pare spaventa veramente tutti perché tutti dicono ah, esfoliare è importante, scrabbare è importante. Ma la mia nonna è morta a 105 anni senza una ruga e penso non abbia mai visto un scrub in vita sua. Come facevano prima con la pelle? Che erano coccodrilli? Come era prima? Boh, comunque andiamo avanti. Questa cheratina, cioè la pelle cosa fa? Durante il suo turnover rilascia, quindi avviene il distaccamento spontaneo delle placchettine di cheratina che non servono veramente più. E' la pelle che di solito decide questo. Dallo sfaldamento di queste placchettine derivano delle piccole porzioni a piccolo e ad alto peso molecolare che sono responsabili, insieme ad altre piccole molecole, del trattenimento dell'acqua. Quindi ha questa capacità igroscopica, cioè trattiene acqua sia dall'ambiente che dall'interno, via via, che questa evapora. Per avere questo turnover regolare e anche questo distaccamento di questa cheratina è importante che ci sia un ambiente anidro. Cosa vuol dire anidro? Con poca acqua. Proprio così. Cioè quando la pelle avverte che manca un pochino di acqua, cosa fa? Attiva la lisi, cioè lo scioglimento di queste placchettine di cheratina crea l'NMF, questo fattore naturale di idratazione quanto basta per svolgere al meglio le sue funzioni. Se io su questa pelle applico ad esempio un olio puro oppure se io quando la lavo in modo scorretto porto via tutte queste sostanze che la mia pelle produce o metto delle pellicole tipo, non so, sostanze filmogene che possono essere la paraffina, gli acrilici, i nylon, i carbomer e trattengo acqua sulla superficie che se è NMF non viene prodotto perché la pelle sente che non ce n'è bisogno. Ma non è vero che non ce n'è bisogno. Qual è la conferma? Che quando vi sciacquate poi la crema la vostra pelle tira terribilmente e sentite la necessità immediata di applicare la crema. e il motivo è proprio questo. Quindi quello che è percepito come reale come idratazione non reale come idratazione perché quando mi applico questa crema mi vedo e mi sento la pelle morbidissima purtroppo state compromettendo la produzione naturale di questo benedetto NMF. E vi dirò di più da questa mancanza di NMF e conseguentemente da questa mancanza di idratazione si creano tutta una serie di circoli viziosi perché infatti quando manca l'idratazione c'è anche un'alterazione della barriera cutanea che non sta. La barriera cutanea non si trova nell'immediata superficie come il nostro fattore naturale di idratazione ma si trova un po' più sotto nel nostro corneo compatto che a quanto pare veramente pochi conoscono se no non direbbero alcune cose. Comunque, questo corneo compatto è quello che lascia passare l'acqua. Nel momento stesso in cui c'è un'alterazione di idratazione in superficie cosa succede? Che nel corneo compatto si verifica una perdita eccessiva di acqua. Questa perdita eccessiva di acqua attiva un nuovo turnover. Quindi direte ah bello! No! Perché purtroppo questo nuovo turnover porta una pelle in superficie non strutturata. Una pelle non strutturata che cosa comporta? Comporta pori dilatati, infiammazione, alterazione della melanina, rughe precoci e lo stress ossidativo. Perciò partire dalle cose semplici oggi mi fermo qui perché ecco sono già quasi a 6 minuti e siamo appena alla prima parte del conoscere la pelle. Però è già una cosa importante che potete fare. E intanto vi dicono a Martina cosa si fa? È fondamentale una detersione fisiologica che non alteri o alteri il meno possibile l'equilibrio di superficie quindi porti via lo sporco senza alterare l'equilibrio di superficie e utilizzare delle formule che aiutano la pelle a trattenere acqua e non che si sostituiscono alla capacità di autoidratarsi e autoregolarsi della nostra pelle. Purtroppo come ho detto nel video scorso in cui ero abbastanza arrabbiata avere una pelle non funzionale fa comodo a molti perciò se invece volete ottenere il massimo con la minima spesa ed avere una bella pelle non fate il gioco delle cattive informazioni ma fate il gioco della vostra pelle che è la vostra e ne avete solo una. Se avete trovato il video interessante condividetelo un abbraccio la prossima volta andiamo avanti perché dobbiamo affrontare tutte e quattro le regole se non ce la facciamo la affronterò a piccole dosi nelle varie storie alla prossima